Nessuno può consolare se stesso, la vera consolazione ha sempre bisogno di un altro, si riceve e si dà. È un dono ricevuto da Dio e un servizio donato agli altri. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta. Comentando la lettera di San Paolo ai Corinzi inserita nella prima lettura della liturgia, il Papa ha ricordato che la consolazione di chi trucca se stesso come i dottori della legge o il ricco e pulone non fa crescere. È Dio che ci consola se abbiamo il cuore aperto e poi con l'anima matura possiamo consolare gli altri. La vera consolazione ha questa doppia alterità, è dono e servizio. E così se io lascio entrare la consolazione del Signore come dono è perché ho bisogno di essere consolato. Sono bisognoso. Per essere consolato è necessario riconoscere di essere bisognoso. Soltanto così il Signore viene, ci consola e ci dà la missione di consolare gli altri. E non è facile avere il cuore aperto per ricevere il dono e fare il servizio, le due alterità che fanno possibile la consolazione. Il cuore aperto, ha concluso Francesco, è quello dei beati, che sanno piangere, sono miti e misericordiosi. Invece quelli che si sentono ricchi di spirito sono senza misericordia, mai perdonano, hanno un cuore chiuso, non sono felici perché in loro non può entrare il dono della consolazione e nemmeno possono darlo agli altri. Grazie a tutti.